Valerio Cimino ha realizzato un libro dal titolo La gestione degli stupefacenti in farmacia. Di cosa si tratta? Si tratta di un manuale che può essere molto utile per il farmacista ovviamente, ma anche per il medico o il veterinario dedicato a tutte le varie fasi di gestione degli stupefacenti, cioè come si ordinano, come vengono registrati, come si possono consegnare ai pazienti, quindi che tipo di ricetta ci vuole, come deve essere compilata la ricetta e così via. Quindi copre un pochino tutto l'aspetto normativo dedicato a questo tipo di medicinali, che sono importanti per due motivi. Uno perché sono importanti per la terapia del dolore, quindi per curare dei dolori molto forti, non diversamente curabili, ma anche per patologie molto più lievi, come potrebbe essere insonni eccetera, perché tra i farmaci stupefacenti rientrano anche tutti gli ansiolitici, tutti questi prodotti che normalmente sono comunemente usati e spesso anche abusati. C'era confusione su questo argomento in passato? Sì, perché la normativa è molto complessa, peraltro c'è stata una nuova legge che ha cambiato alcuni aspetti per questi medicinali, per cui ho dovuto realizzare una seconda edizione, perché in effetti una prima edizione era stata pubblicata nel 2012 ed era stata anche ben accolta, nel senso che in un sito aveva raggiunto il primo posto per una settimana, una seconda settimana ha avuto il terzo posto come vendita e quindi una discreta soddisfazione per me. Però essendo cambiata la normativa andava aggiornato e quindi l'ho modificato anche come struttura dando degli schemi che sono anche più semplici da gestire e più facili da utilizzare sia da parte dei farmacisti che dei medici. Quali sono gli aspetti più importanti della nuova normativa? La nuova normativa ha ridotto le pene soprattutto per i tossicodipendenti che fanno uso lieve di sostanze stupefacenti come ad esempio la cannabis e alla cannabis si è dedicato anche un capitolo perché è uno di quei medicinali perché non è soltanto una droga, è anche un medicinale di cui si sta scoprendo l'importanza in questo periodo e quindi a poco a poco sta cominciando ad entrare nell'uso, mentre fino a qualche anno fa era soltanto considerato droga e quindi non veniva normalmente utilizzata in farmacia e neanche in ospedale. I medici sono informati di questo? I medici dovrebbero essere informati dalle loro associazioni di categoria, però siccome ci sono tante modifiche che si sono succedute nel tempo, spesso diventa difficile riuscire ad avere un quadro completo proprio perché hanno cambiato con una circolare, con un decreto eccetera, c'erano tante cose che sono state modificate. Io le ho raccolte tutte, il volume è di quasi 190 pagine, quindi un volume significativo con tutti i dati che possono essere utili.